buon salve ragazzi e benvenuti in questa mattina e questo sabato mattina meno per me in cui andiamo a giocare la power challenge con boros iniziativa questo mazzo mi sta divertendo quindi ho deciso di provare a giocarlo anche in challenge anche perché siccome ultimamente i mazzi comunque considerati più forti continuano a rimanere affinity e monored questo mazzo dovrebbe tritare sia affinity che monored poi tendenzialmente almeno dei miei pochi testing che ho fatto tende a stare leggermente sopra anche gli altri vari midrange perché ha un sacco di piani per fare vantaggio anche loro però qua in molti modi di andare a proteggere poi monarca e anche iniziativa cosa che mi piace veramente molto e poi in realtà è come giocare jeskai senza il blue sostanzialmente stai giocando jeskai e femeric senza i counter ma che vengono sostituiti con prismatic strand e così via semplicemente per tenere botta a monored ho fatto giusto qualche piccolissimo cambio per andare ad inserire almeno un paio di reliche del progenitus di side e provare ad avere un piccolo edge anche contro i mazzi che utilizzano un botto il cimitero e in realtà basta vediamo un po' come va allora primo match di questa challenge c'è un wiper di secondo quindi questo è un keep ed è un ottimo segnale veramente un ottimissimo segnale ok bridge go possiamo già fintare di essere tipo un jeskai e invece siamo contro ponza zio pera zio perissima possiamo volendo accoppare io devo accoppare questo ci penso due volte vai non ce posso pensare due volte ok in sparing over seer cleansing wildfire prendiamo bianco così rampiamo io direi che tanto abbiamo già una prismatica da andare a scartare scarteremo prismatica e scarteremo questa vai mi sa soltanto perché questa roba qui non me la può distruggere va bene ed ecco perché abbiamo messo questa ci abbiamo tenuto questa oddio in realtà possiamo fare questo più wildfire poi il turno dopo che non è così male facciamolo facciamolo questo qua vero che poi se ci spacca il pezzo non abbiamo il bianco ma in realtà ce lo andiamo a prendere di wildfire e facciamo terra indistruttibile quindi tutto sommato va bene questo lo accettiamo ugiponza ugiponza ok dignitario non serve a niente nulla io però in realtà in questo preciso momento preferirei andare a fare questo moltino va bene due danni abbiamo già prismatica open volendo tappi 5 pesciotto va bene va bene cioè oddio va bene questi cavi non servono tipo a nulla proprio zero cleansing wildfire qua sopra si prendiamo bianco così siamo pieni di bianco questo servirà a qualcosa lo scopriremo questo scoppia e attacco va bene andiamo ancora una removal un looting al cimitero che volendo ci può far scartare questi qualora non ci dovessero servire siamo pieni di lande e controponza essere pieni di lande addirittura non è scartata una quindi direi ottimo 1 2 3 5 volendo con questo qua stai e solo paura che comincia a fare altisauri into cose into banane va bene va bene va bene però se non l'anda va bene va bene ok 1 2 3 facciamo looting 1 in realtà ma ce ne frega qualcosa di questi dignitari non ce ne frega nulla di questo di questo qua visto che ne abbiamo un altro così devi per forza fare l'anda via questo l'anda ti attacco mi vai a 10 e che con un efemeride cominciamo a riprendere anche i botti e non è male va bene ok quindi non c'hai il pezzo 5 6 7 se no mi facevi altisauro e che è molto buono per me senti io ti attaccherei con tutto probabilmente mi bloccherai questo esatto prendi 2 1 2 3 4 e 1 5 quiet paladin se 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 bianco se non è vero abbiamo già all'andato vai va bene questo è irrilevante questo è decisamente più rilevante into avenging hunter into avenging hunter e questo questo è male questo non mi permette di dare gli infiniti danni quindi va bene però abbiamo una removal più un dignitario quindi tutto sommato ce ne frega relativamente 1 e 2 journey to nowhere via altisauro se se meno questo qua non serve a nulla quindi attacchiamo ok ok e facciamo forge forge su paladino che diventa gigantesco landa 1 2 3 e 1 4 appoggiamo anche questo che non si sa mai vai potrebbe fare quel dannino che manca comunque se lo metto in volante su volante perfetto va bene più questo zio pera va bene malissimo malissimo va bene va bene perichard companion bene si ok questo non ci serve a nulla è un artefatto è un artefatti è una creature con difendere e cioè con difensore ci serve a nulla 0 però allora se noi impegni meniamo con tutto e poi preveniamo i danni da un colo adesso vediamo attacchiamo con tutto e questo altro avenging hunter non è stato buono per me ok se andassimo a prevenire i danni dal blu preveniamo i danni dal blu e manteniamoci il volante in campo ok vai lui purtroppo si piglia iniziativa cioè si mantiene iniziativa a me basterebbe che dipende che cosa pesca dipende che cosa pesca dipende tantissimo da che cosa pesca terzo terzo avenging hunter è un macello macello ma proprio un macello si il terzo avenging hunter è proprio un macello e i due segnalini sono il drifter anche se non ma quarto avenging hunter lui rischia di vincere questa partita rubandola così totalmente rubandola così fantastico cioè non è vero non è vero ma neanche per sbaglio c'è una chiappa fotonica qua se una chiappa fotonica questo non mi serve a nulla io lo sto pescando malissimo rispetto a lui ma malissimo abbiamo perso questa partita veramente abbiamo veramente perso questa partita è vero che ci bastava veramente poco destroy target enchantment pacchiamo questo mettiamo un pipponino in più e non ha neanche senso attaccare perché mi fa saltare i pezzi vai bello che è a 6 è veramente a 6 porca miseria va bene eh però lui in 30 carte ha visto 4 avenging hunter mamma mia l'anomar visionary mamma mia mamma mia che abbiamo di side contro i ruvi tipo nulla vabbè ci abbiamo le idro c'è lei le pyroblast metteremo le pyroblast mamma mia ci ha fatto un recupero che mai me lo si è rispettato però letteralmente ha pescato tutti e quattro gli avenging hunter di fila e non ci possiamo fare nulla a me servirebbe eh se lo attaccasse con questi due io dovevo girare un giorni una robina di questo tipo barra un altro paladino eh lo so mi dovrebbe fare un paio di conti lui deve aver paura della prismatica sostanzialmente perché se va all in e io ho prismatica mi posso mangiare le robe solo che io ho utilizzato l'altra prismatica eh no 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 abbiamo appena messo in cima la terra va bene non cediamo questo g1 incredibile com'è lui abbia vinto questa partita incredibile va bene allora mettiamo questi quattro smash to dust e smash to dust non fanno nulla ne avevamo e di cose forti da pescare ne avevamo notevolmente ne avevamo veramente tanti downbringer cleric lo può rallentare all'inizio però poi diventa veramente brutto quindi non mi piace non mi piace proviamo a fare una rovina di questo tipo dovremmo essere un pelo più utili vediamo va bene partiamo noi ok c'è un wiper due wiper allora in generale è vero cioè bisogna ammettere che il match up non sia roseo cioè tendenzialmente brutto nel senso che lui gioca agli islandi e poi gioca a airstone il fattore è che proprio quello giocando a airstone contro un dec e giocare contro un mazzo di magic ci stiamo pappinando tantissimo dovrebbe succedere che se lui non pesca in gold mode noi peschiamo normalmente la partita si vince poi succede quello che è successo prima pesco pesco puffa e lui che pesca tutto è un pelino più complesso però vediamo il forbo se wiper se prendiamo bianco vai doppia pyroblast i pyroblast mi servono tra un sacco di tempo mazzo tra un sacco di tempo certo ma noi ce ne abbiamo un altro se bianco pesca una landa landa siamo anche open di pyroblast non so quanto possa servire ma siamo open di pyroblast se va bene c'hai pure qualcos'altro da giocare altro ero forboreo erano sì facciamo companion pesco va bene vai oddio va bene più o meno 4 5 6 7 mana potenziali sono tantissimi sì e giochiamo a airstone che due palle va bene e va beh va beh morti così morti così morti così e che abbiamo rampato abbiamo avuto i nostri pezzettini le nostre lande le abbiamo viste lui ci ha tolto un colore ma va bene pure avenging hunter questo era un malligan a 5 fantastico sì e con il bianco avremmo fatto un sacchissimo di robe ma senza non non ne usciamo va bene va bene ci sta ponza è il mazzo che uccide letteralmente questa tipologia di midrange quindi va bene l'accettiamo va bene va bene match numero 2 di questa challenge doppia c'è una wifi però doppia bouncing giocandone 2 non è esattamente il top va beh questa la terremo andiamo a mettere sotto un letto dinder per il momento sperando di piccare una landa indistruttibile per poter poi fare wifi probabilmente di terzo ma noi ci accontentiamo così è bella carta wildfire maldica anche lui noi kippiamo leviamo le 2 din e vediamo che succede vediamo quanto maldica anche lui a 6 vai soltanto a 6 ok foresta ok aura vai aura vabbè g1 è un po' un macello devo vedere un un downbringer poco da fare si e quante pianure giochi quante pianure giocherai questo è malissimo ovviamente si bolt fantastico non stiamo ne pescando la landa bolt stiamo pescando tutte le removal in un match up in cui le removal non servono a niente prende foresta comunione numero 2 si ancestral maschio che non puoi tirare questo turno ma vabbè prendiamo proveremo a bloccare il prossimo piuttosto diciamo wildfire qua sopra solo per ciclarci la landa magari tanto ci cicliamo una carta magari non ha il secondo bianco sarebbe già un'ottima cosa se non credo che tu abbia cose non penso poi ok mannaggia la miseria questa mi serviva prima vai e porca di una miseria non potevi questa la pescata per forza se non me la faceva prima va bene questo però no attenzione ci ha ipertrickato ci ha ipertrickato ci ha ipertrickato ci ha ipertrickato questa era una trample per il momento quindi andremo andremo a bloccare per forza di cosa pesco dai mazzo facciamo nulla non facciamo nulla ma le persone niente si facciamo con la paladin abbiamo pescato tutte le removal del mazzo e siamo partiti senza removal se non erro qua proveremo a bloccare sperando che non giri qualcosa con trample lì c'è iper veramente ipertrickato fantastico vediamo bianco vai c'è letteralmente ipertrickato valutiamo se prendere 11 perché se facciamo scry oddio no va bene mamma mia un wifi qua gli leva trample cupogol no va bene siamo costretti a bloccare perché se ne siamo morti lui comunque prende iniziativa io non so neanche che cosa devo pescare servirebbe una prismatica vabbè l'anda ok c'erano tante cose che si potevano pescare prima di quella roba lì doppio downbringer doppia cannonata e per assurdo mettiamo pure queste via i bolt non posso togliere tutti i giorni e questa è una roba particolare ma importante via questo via almeno un paladino un journey e ci sono anche i dignitari cioè facciamo così non mettiamo quattro pari ma ne mettiamo tre va bene e allora siamo un mazzo tra virgolette che in un match come questo possiamo giocare la full control l'occone e quant'altro se non vediamo nulla è un problema però va bene però g1 è andata un po' così ma non demordiamo non demordiamo perché le nostre giocate forti ce le abbiamo adesso qua abbiamo già un wiper uno smescino un looting per scavare un po' di cose le possiamo cercare e trovare considerando che poi post side abbiamo una densità di risposta nettamente più alta il che è veramente importante 2 valliga 6 va bene valliga 5 tutto questo è un mazzo che se non picca cioè non tiene con almeno una creatura muore va quattro altra se dovesse fare terra bestia facciamo smescino subito lui dovrebbe in teoria post side aspettare sempre almeno un turno almeno di poter fare tipo pezzo più aura sopra questa va bene questa va bene allora in realtà qua andrei a rampare e basta guai qua sopra si le rendiamo bianco va così diminuiamo le carte nel mazzo rampiamo possiamo fare più cose e abbiamo più probabilità di andare a piccare delle bestie utile ok questo potevi farlo prima non ti piaceva uh la la che hanno nata vai se no stavo già per fare smash però cannonata cannonata è una bella carta 1 2 e 1 3 boom ok 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 1 e 2 facciamo smash che fa un danno a tutte le due bestie facciamo un fantastico boros garrison ci riprendiamo in mano differente in questo momento vai che per il momento non stiamo cercando nulla di troppo specifico quindi looting possiamo tenercela un attimino la terza bestia non la incanti che è un aspetto rilevante 2 e 1 3 2 e 1 3 facciamo il sparring over zero vai poi direte sì ma potevi fare e lenta lista prendere smash e basta però secondo me è la cortissima di risorse e tanto ci abbiamo anche prismatica quindi potendo sopravvivere quasi stato molto bravo tu ma molto bravo tu molto bravo tu 1 2 e 1 3 va bene da verde comunque ci aveva poi un'altra bestia quindi non avremmo risolto nulla fantastico wet weapon allora 2 3 4 io direi che possiamo fare ardente elementalist in questo momento io direi che andrei a scavare prendendo cleansing wildfire gli levo utopia poi gli leviamo questa no andiamo alle varie utopia questo si sgonfia diventa un 3 3 e vediamo che succede vediamo che succede no non gli piace prendiamo questo anche perché in tutto questo cicliamo anche la carta che è un'ottima cosa la facciamola prima di l'andare ok facciamola prima di l'andare vai prima di l'andare perché se avessi pescato una landa tappata avrei potuto giocare quella in tutta la tranquillità del mondo adesso vediamo in che condizione top deck ultimamente i miei oppo to beccano abbastanza bene detto questo va bene questo in realtà problemino perché pompa anche questo però scoppia tutto quanto di betweapon quindi va bene è un 7 è un 7 e andiamo a fare in realtà posso anche soltanto bloccare basta blocco e basta tanto non ha trample non è attaccato anche con questo probabilmente però allora 2 diamo a romper questo questo si sgonchia un po' contiamolo come fosse un 3 3 praticamente ai fini di 2 3 4 5 io direi che andiamo a fare paladino se 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 prendiamo bianco facciamo bianco vai vai ok e vabbè sono pezzi che si ciclano noi abbiamo ancora nel mazzo infinite cose fortissime andiamo anche a scragliare abbiamo 4 downbringer ephemerate 4 downbringer 3 ephemerate volendo smash to dust in più non è vero non più perché quello è diventato ormai un 5 5 tripla prismatica ma si pompiamo anche l'altro va bene 3 4 5 intanto non possiamo accopparli quindi facciamo così preveniamo dal verde vai ok e no dobbiamo scavare cioè è il turno in cui dobbiamo scavare 4 6 7 8 potenzialmente 9 mano va bene va bene va bene questo è esattamente il turno in cui dovremmo andare a scavare secondo me è un downbringer su quattro in venti carte ce lo meritiamo eh abbiamo visto un terzo del mazzo secondo me poi comunque possiamo ancora pescarci altre 3 carte 3 carte adesso sta giocando di una lentezza infinita il nostro uomo si qua tra l'altro andiamo a scraiare anche due perché tanto del resto non è che ce ne freghi molto oddio potrei dire pompo questo perché così questo qua non mi fa più danni per il momento però tanto questo qua rimanerebbe essere un problema l'altro lo possiamo comunque ci bloccare secondo me quindi lost wall tra i due bellissimo bellissimo uccidendo questo questo diventa un 5 questo diventa un 7 non ce ne frega nulla quindi bottom bottom smash to dust non ho messo bottom bottom tutte e due bottom, abbiamo pescato smescino 3 3 danni a tutte le bestie poco rilevante facciamo spirited companion pesco pala sentinel facciamo looting downbringer cleric che è una carta che è una carta se ne facessimo downbringer più smescino sono 4 dove vale questa? dove vale questa? pertanto questo qua ci servirà fra un sa oddio, piuttosto ci teniamo questo a sto punto no no, devo fare questo più smescino perché sarei tentato di togliere, di tirare via la terra ti sicuro questo qua in realtà non mi dispiace e questo qua in realtà non mi dispiace lui intanto ha perso la connessione e noi andiamo a scartare in realtà in questo momento io sarei tentatissimo di scartare questo brettweapon perché tanto ho questo tanto se pesco le femmine te lo riprendo tanto non è che può pescare all'infinito ogni turno quindi mi piace così va bene facciamo downbringer se destroy target enchantment via questo e 1 e 2 smescino che ti uccide anche il companion tu hai un 4-4 io ti vengo a menare in questa maniera vai tra l'altro noi possiamo addirittura poi scavare con faithless looting ancora dunque qua abbiamo visto veramente una quantità di carte incredibile abbiamo fatto scray 2 bottom bottom pesco più looting altre 5 carte avendo visto praticamente 25 carte non vedevo un singolo downbringer cleric diciamo che era un po' pesantuccia come cosa vediamo che cosa ha i top deck pescato niente finalmente mi hanno vinto ok sub mettiamo e vediamo di tenere una mano con triplo downbringer cleric 2 terre un wildfire e una bris 1000 anzi niente ma neghiamo invece e porca miseria però la kippo perché alla peggio se non peschiamo né nulla intanto leviamo questo alla peggio se non dovessimo pescare nulla ci facciamo cleansing wildfire sulla nostra terra per piccare bianco ma questa è meglio vai questa è molto meglio molto 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 meglio va bene ma lo peschiamo uno smash così al brucio no va bene uno e due wildfire qui e smash qua sarebbe stato non forte di più si bianco vai vediamo anche il secondo bianco questo è ottimo perché mi permette di fare poi downbringer più companion ma sicuro arriva un eterea o un ancestral musk eterea vabbè ci stava ho chiamato anch'io terlina uno e due facciamo downbringer cleric che distrugge questo enchantment e poi uno e due facciamo questo se vai che mi scava un pochettino ci schiantiamo non è vero ci schiantiamo non l'ho troppo capita ma ah ok 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 cioè mi sembra una caccata effemerit mi sembra una caccata però va bene cioè uno due tre e uno quattro io vorrei fare ardentemente riprendo anch'io qualcosa dal cimitero vai e lui si è ripreso for each card revealed this way per ogni carta rivelata si è ripreso sia il companion che le tere all'armor interessante va bene va bene allora io non te lo posso accoppare ma non te lo posso occupare però possiamo dire che blocco se facciamo questo sai che potrò spaccare ancora un altro incantesimo anche dopo perché tanto ce lo andiamo a riprendere qua sopra e questa penso che sia una partita già vinta questo qua invece dice per ogni che controlli si quindi uno e uno due facciamo wiper qua sopra si prendiamo bianco che serve sempre poi facciamo uno e due appoggiamo questo se journey la vago continuiamo ad appoggiare cose a rampare a permetterci poi di sbloccarci sempre più cose va bene va bene fin quando non appoggia trample va tutto bene cioè e concede la partita perché tanto possiamo continuare a fare blocco ti spacco il pezzo blocco ti spacco il pezzo tra l'altro con tutte ste terre poi avendo continuato a rampare posso scavare per vedere una prismatica qualora dovesse riuscire a fare un qualcosa prismatica barra secondo efemerit barra primo smescino che peschiamo riusciamo a ucciderlo senza troppissimi problemi quindi va bene va bene aura ci sta match numero 3 di questa challenge è una mano che teniamo mi piace questa mano fa cosa una remove la modo di far vantaggio una bridge milla per fare un po' di tempo un peschino che mi guadagna delle vite e fa board un po' di rovine attualmente siamo ventottesimi va bene orduque bridge go quindi siamo già open di un lightning bolt e poi magari ci peschiamo anche un wifi no ti prego un altro ponza non lo posso sopportare un altro ponza mi viene mi viene male mi viene male c'è sto male io sto malissimo rg ponza poi c'hanno sempre slant se vai che male che male che male che male e l'hai fatta vai zio pera zio pera e peschi olanda se tre quattro e uno cinque non c'hai neanche un rampino per dire ti uccido quello poi e mo vediamo se c'è un altro slanto sono morto se c'ha un troppo altissimo siamo morti uguali va bene se beh partite divertenti ma che palle beccare due ponza in tre turni se che te devo dire se ho capito c'ha quattro carte in mano questo lo possiamo accoppare il problema è che dobbiamo pescare poi un qualcos'altro oddio se non dovesse far nulla questo turno avremmo wifi qua sopra volendo che lo rimanda abbastanza indietro però non deve fare nulla scred non serve a nulla questo lo possiamo poi accoppare a un certo punto nella nostra vita il problema è che io devo fare wildfire qui non posso devo sperare di piccare bianco in qualche modo una qualunque terra bianco vai però perlomeno mi va a quattro terre che è un qualcosa l'anormal visionary se riapalting 1 2 3 niente facciamo questo prima ce ne posso aspettare c'è una prismatica devo pescare delle land devo pescare un qualcosa vai se succede se dovesse succedere se e gira non credo ci sia modo anche perché mi è saltato un altro land drop però sai mai sai mai preveniamo dal verde va bene andiamo a 3 mazzo 1 e 2 journey andiamo a togliere l'altisauro se bounce questo vai si dovesse riuscire a fermare un secondo va bene ci diamo questo ti puoi fermare un momento mamma mia va bene no 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 subito che mi ha letteralmente distrutto mettiamo i pretweapon che uccidono gli elfetti uccidono queste romine qua e contro io dobbiamo mettere pure questi tutto tutto brettweapon più forte di questo non lo so via 1 via se non è almeno 1 almeno 1 e almeno 1 va bene proviamo così proviamo così proviamo così però ponza è veramente un match accorrendo veramente un match accorrendo poi questa versione ancora di più manghiamo a 5 lui manliga a 6 io manigo a 5 e terrò una mano che morirà da 45 cose va bene equip lui sta tenendo a 6 via questo via questo vai vai devo pescare tipo doppio wifar perché mi pesca anche delle terre per sopravvivere questa roba si questo è già un qualcosa questo è morto vai si questa è appena esplosa l'anda è 1 e 2 jambringer cleric che distrugge utopia vai 1 e 2 la si bianco e andiamo avanti ci proviamo vai un turno ce lo siamo guadagnati va bene va bene oddio si 1 e 2 spirited companion overseer vabbè 2 e 1 3 overseer va non abbiamo granché però possiamo continuare a pescare e fare delle cose eh prendo perché tanto qua se no ci fa tipo gli basta una removal e ci manda sulla luna 1 e 2 spirited companion pesco ma vista così facciamo anche un journey via questo e ti veniamo a trovare un po' con tutto sono 4 pigne vai monarca non può farlo iniziativa non può farlo questo me ne frega relativamente ok va bene ti verrei a trovare con tutto 2 3 4 5 vai a 10 abbiamo ancora una removal va bene ai sidmos 6 1 2 3 tiriamo questo e preveniamo dal rosso 6 va bene efemerate attenzione di meno con tutto 1 2 3 e 1 4 mi dica dove fargli quanti più danni possibili quello è proprio l'ultima cosa che mi interessa vai lui ha 6 mana io se i danni me li accollo 6 se c'è 4 carte in mano ok 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 6 stappiamo stappiamo altro efemerate ti attaccherei con tutto se prendi 3 hai preso 3 ok ok pregno bianco il secondo bianco è notevole facciamo jambringer cleric che mi guadagna due vite in tranquillità vai ok scorretta scorretta e gli diciamo di no peschiamo guadagniamo una vita possiamo uccidere addirittura questo ma in realtà possiamo uccidere lui quindi boom va bene va bene abbiamo vinto una partita sub mettiamo e vediamo che cosa succede il segreto è riuscire a vedere delle remove al più downbringer praticamente subito per riuscire a sopravvivere se riusciamo a sopravvivere ai primi turni tecnicamente dovremmo riuscire a sviluppare un pochettino il nostro gioco il problema è proprio quel se riusciamo a sopravvivere ai primi turni lui che sta facendo maldica 6 io kippo perché posso spaccare utopia posso spaccare in utopia va bene wildfire è buonissimo vai se fermati porca di una miseria declaimer porca di una miseria declaimer facciamo questo subito devo togliere overseer devo downbring vai non posso togliere le lande non può succedere poi la peggio c'abbiamo wildfire 1-2 companion almeno facciamo anche qualcosa e peschiamo vai male 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 vai lui con la terza landa si sblocca è zio pera però zio pera facciamo questa vai volte buono eh volte buono dai però triplo declaimer non ci posso credere non sono ancora riuscito a fare una singola volta triplo declaimer che ti devo dire ragazzo sei più bravo tu sei molto più bravo tu landa e io ho bisogno del bianco poi perché lo so che poi dopo mi fa delle robe che che non si dovrebbero fare quindi facciamo così vai poi slandi me l'ha già tirato 85 cioè se mi vede anche altro bravo lui cioè non so che dire ho preso foresta ed effetto bolt qua sopra questa journey via questo te meno se 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 vai hai due carte in mano due carte in mano ce l'ha ce l'ha e vede white growth però attenzione perché qua possono succedere cose croccanti tipo sì tipo ok i pochetti meno prendo iniziativa forge sul cagnetto che diventa un 33 facciamo landa e utilizziamo tutto il mana possibile per fare anche questo vai almeno che mi faccio un'altra iniziativa dalla mano non so che dire non so che dire non so che dire va bene wildfire 1 e 2 ciao journey via 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 questo facciamo non è vero facciamo questo facciamo 1 e 2 questo qua si prendiamo bianco almeno rampiamo vai 3 6 mano devo poi prendere il prossimo turno iniziativa per forza devo tenermi open di questo non si ferma un turno non c'è modo non c'è modo devo pescare efemeri se pesco efemeri riesco a fare iniziativa più questo va a sentire 1 2 3 4 devo farlo il prossimo mi fa la ultimate e io sono non a pisciare di più di più beh se faccio paladino mi faccio trap se faccio paladino però deve perderci dei pezzi e non è malissimo dio perdersi dei pezzi più o meno si però poi riesco ad attaccar back volendo più o meno e basta che attacchi con questi due più o meno se no se facciamo mi sembra la banda stappata porca di una miseria porca di una miseria però se mi fa la ultimate sono un pagliaccio 3 4 5 mi fa la ultimate sono un pagliaccio io poi riesco a stallare un minimo dipende 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 niente facciamo così passiamo poi mi scherzo un efemerit attualmente ho tutte carte che voglio tenere in mano quindi vediamo che succede mi fa la ultimate rivela ah è gigante va bene va bene però è tutto verde che è già un qualcosa prende anche una basica e pesca basica va bene si se attacca proviamo a togliergli qualche pezzo e gli togliamo assolutamente nulla non è tanto qua dobbiamo farlo quindi 1 2 3 prismatica da verde vai si perché se vado a se vado basso muoio sempre muoio veramente sempre altisauro che gira utopia va bene e questo è un altro altisauro si si però è tutto verde anche un elementalista non sarebbe male welfare 4 5 facciamo paladino si prendiamo iniziativa facciamo su di te io potevo fare anche l'altro effettivamente però 1 e 2 facciamo welfare qua sopra si terra downbringer non serve a niente ma va bene non in questo spot io spero che non abbia un'altra iniziativa che sarebbe veramente disastrosa sarebbe veramente disastrosa ok blocchiamo questo con tutto 3 6 7 e facciamo prismatica però un pezzo lo dovremmo aver tolto da verde si ok peschiamo in una carta in più abbiamo ephemerate facciamo così horse garrison 6 2 3 looting via 1 ci pensiamo via 1 e via 2 ephemerate qua sopra yes e 1 2 3 e 1 4 facciamo anche pala sentinel abbiamo vinto se 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 ho se hai dato fuori le removal perchè in realtà lui può rispondere a questa cosa ma concesso wow abbiamo siamo un'arca che è iniziativa gli abbiamo grindato tutte le risorse e abbiamo battuto uno dei due ponza sono contentissimo stiamo 2-1 e la vita va bene quando batti ponza con un mazzo come questo la vita va molto molto bene match numero 4 di questa challenge siamo sul 2-1 questo è un wildfire di secondo che chi ti amo ti prego non essere il terzo ponza della giornata potrebbe essere una buona cosa non essere il terzo ponza della giornata cioè miglioreresti ancora di più va bene vai comunque qua facciamo sono impappinato fortissimo comunque qua facciamo cleansing wildfire di secondo mirrorino potrebbe essere anche gescai potrebbe essere tante cose ma come due wifi boom bianco 3 vai arm mentalist cosa sei sei gescai sei gescai va bene sei gescai un gescai sul 2-1 va bene facciamo companion e giuno giuno è un po' complessino eh abbiamo dei piani perché noi abbiamo iniziativa lui teoricamente no però post side dovremmo riuscire a migliorare infinito vero che anche lui possa dare un sacco di robe bruttine però c'è un 4-2-4 questi qua c'è anche lui volendo mettiamo pure i downbringer cioè i downbringer le cannonate brett weeple le ho dette tutte tranne quello che dovrebbe essere ha preso counterspell eh counterspell è fortino counterspell è fortino io non posso fare ardent elementalist qua o meglio posso farlo ma poi non è bellissimo come se faccio companion non faccio nulla se faccio questo non faccio nulla no mi sa che dobbiamo fare ardente elementalist anche soltanto per forzare un po' la mano forzargli un counter solo perché ne abbiamo due se no ce lo potevamo tranquillamente tenere in mano eh e a quel punto avremmo dovuto fare spirited companion questo vuol dire che hai un solo counter credo va bene voglio riprendermi wildfire sono iper contento night iper contento preordain perché adesso ho una giocata al prossimo turno per fare wildfire più spirited companion alla ricerca di un'altra landa robe di questo tipo auguri di volas numero due come fanno a non mi sarei mai questi cosi in un mazzo come quello io non ho ancora capito ma va bene stacco vorrei fare wildfire ok 1 e 3 1 e 2 andiamo bianco 1 e 2 companion se va bene ci andiamo a riprendere questo vai andremo in discord di una prismatic strand ecco brainstorm effettivamente con gli auguri di volas non è così brutta non è così bruttina via questo intanto abbiamo il nostro prismatic strand in mano diciamo è leggerissimo vantaggio carte leggerissimo va bene downbringer cleric macello macello va bene stappiamo paladino 2 3 4 io in realtà per il momento mi posso anche accollare un dignitario sviluppo le danne vai ok e vai pure in realtà tanto dipenderà dal numero di f emirate che ognuno può andare a vedere se non servono in cazzo di niente proprio nulla 2 3 4 paladino cioè paladino pala sentinel qua spero che tu ci andrai a buttare un counter va bene vai spero che tu ci vada a buttare un counter sbuttare oddio buttare non si butta via nulla però il problema è che lui mi può counterare ardentemente liste io non posso counter io non ho non ho i botti stati che ho pescato tutti quelli sorcery diciamo che g1 non sono settato per battere jeskai ma proprio neanche per sbaglio vediamo se per sbaglio dovesse essere branzaloccato ok guarda che te devo dire io provo a fare così magari te ne porto via uno te ne ho portato via uno va bene stappo pesco looting è una carta che mi porta via questi due che non fanno nulla 1 2 3 4 facciamo elementalist questo secondo me mi tira un counter anche qua altrimenti prendiamo wifi e andiamo avanti va bene e che te devo dire facciamo wifi qua sopra se prendiamo rosso facciamo facciamo vai ah efemerate avevo già visto il primo efemerate che male per me smash to dust va va cioè forte però forte ma non esagerato ma non ne è messa uno ha girato triplo counter spell di auguri di bolas così siamo forti tutti si qui è proprio forte è un po' forte forte c'è doppio counter in mano è una carta x il problema è che il doppio counter in mano è un macello si e later dinner su don bringer don bringer cleric mi toglie faithless looting 2 4 2 3 4 e 1 5 ok l'anda 2 3 4 2 3 4 ora senti nel ok 1 2 3 4 e 1 5 in teoria non dovresti avere subito cioè ti rimane soltanto più un counter spell in mano in linea teorica prendo questo vai comunque per attaccare con tutto se non perchi incredibilmente questo turno perdi un pezzo io ti attacco back e riesco ad esiliarti comunque qualcosa anche se rimani indietro con journey il che mi va bene mi dovrei riuscire cioè dovrei riuscire a riprendere iniziativa e poi comincio ad appoggiare pezzi noi potremmo essere in una situazione non bruttissima se lui questo turno riuscisse a pescare poca roba archiomante ha pescato archiomante io non c'ho il botto io non c'ho il botto e amen no no è persa è persa ho beccato archiomante non c'è modo va bene va bene 3 6 e pescavo ma tanto eravamo pendicato quindi no cioè sicuramente non G1 sicuramente non G1 devo mettere pure questi questi qua in realtà fanno schifo in pratica sono più forti di questi però adesso vediamo perché vanno via quelli vanno via i dignitari vanno via almeno un paio di prismatiche i downbringer sono proprio brutti purtroppo prismatiche tutte secondo me no però almeno una sti e in realtà probabilmente ha senso così forse 4 dust to dust sono un po' tanti saliamo in questa maniera i downbringer li vogliamo tenere veramente considerando che abbiamo una relic perché se no possiamo fare dust to dust e per cui con e basta va bene proviamo 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 e se lui quel turno avesse pescato tipo una landa piuttosto di pescare la carta più forte del matchup diciamo che la situazione poteva essere diversa questa mano tecnicamente molto forte in pratica noi dobbiamo pescare io me raccollo al limite abbiamo questa qua per per scavare però vai bel wiper bel wiper no ma 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 senti io faccio reliquio vai e wiper no rebook ok c'è ok par di palle ok vai e i giochi i revoke che è più forte no che palle va bene tu giochi i revoke che sono più forti ok cioè in tante situazioni sono più forti effettivamente isoletta va bene ho preso l'altro bianco tra l'altro ergo abbiamo dust dust vediamo last to dust e lo vediamo dargli un target in realtà in questo momento è proprio brutto via tutto morose garrison mi dà anche la possibilità di sviluppare ma se riusciamo ad arrivare a questa roba qui c'è con ardente elementalisti in campo ce l'accogliamo di vincere anche la partita vai vai mi dica no va bene e secondo revoke c'è che tenevo lì vai è più forte lui sì c'è in realtà qua la partita è ancora tutta aperta tra l'altro è un dust dust su stile due rovi qua domanda tanto indietro stanno giocando quattro quindi possiamo anche pescarli tu hai veramente così tanta paura di questo due tre quattro cinque vai bisogna di ancora un'altra landa sarebbe ottimale mi dica mi dica poi tipo un pesce a pieno tre quattro cinque tiro pari lo blast poi faccio elementalista riprendo pari lo blast passo stacco faccio cose fai queste cose qui con un'altra mano possiamo pensare di provare a fare alcune alcune cose evoke senti io vorrei provare a dirti no vai il blast va bene va bene va bene c'è anche l'epemerit onesto coperto da counter spell è questa cosa qua è proprio forte dust to dust però non mi serve in questo momento due tre quattro vorrei fare elementa lista francis spell praticamente posso concedere una partita tua voce sky è troppo più forte di questo nel mirror cioè nel mirror lui ha i counter spell io no lui ha il drifter io no è incredibilmente più forte poi perde da tanti altri mazzi in maniera diversa no non c'è modo non c'è modo va bene va bene va bene ora lui sta maldigando match numero 5 di questa league resta una mano strana ma me la collo perché ha un sacco di robe per sopravvivere una removal non miss land drop fino a turno 85 dobbiamo gestire una carta in meno e siamo on the drop quindi non mi dispiace poi magari non peschiamo sull'Olande ci sono anche quelle cose interessanti go quiet paudin va bene ok contro gate è una versione non col blu che dovremmo poter battere senza troppissimi problemi ha chiamato nero ha chiamato nero rosso nero piano va bene mi ha pescato una landa fantastico vai guarda non faremo nulla mi ha pescato una landa va bene se looting è una carta mamma mia mamma mia via 1 e 2 diciamo così se se vai va bene vai va bene va bene bene tappi 2 non tappi 2 prendo 2 va bene ok jambringer cleric che mi toglie questo va bene e poi si andrà a pescare anche una carta landa vai ok ok fino a qua sono successe cose ma nulla di troppo esagerato ci abbiamo triplo paladino triplo paladino è tanta roba va bene io non credo di voler fare veramente prismatica adesso di main questo mi cambia un pochettino i piani cicli fiume va bene è di la landa e open the gates e giocando four color gate ok vai c'è va bene se l'hai fatto 7 8 9 danni lei a 5 guarda cominciamo fare prismatica da bianco questo è comunque nel caso dovrà saccarsi la reliquia doppia reliquia mamma mia mamma mia va bene ma che cavolo c'hanno tutto l'eat di main cioè va bene fino a una certa terrina 2 3 4 5 facciamo paladino andrei a cercare poi una basica ma amen se se prendiamo rosso in questo momento vai siamo open dione per merit dipende molto da che cosa decide di di proporci se me è il suo piano migliore sarà compare un pezzo comparmi un altro attaccare con quei due e basta se mi va tappell out così tra l'altro e invece esce ok te ne paro uno questa cosa è molto buona perché è vero che riprende una basica però a noi in realtà ce ne frega relativamente io avrei preso un sacco di danni però hai preso il verde questo non serve a nudo ok ci sono 3 4 5 4 quarto basi rischio vabbè ci sta skypisher va bene se non andremo ad esiliare di giorni ok va bene va bene va bene va bene noi dobbiamo andare in che direzione probabilmente voglio fare questa quindi effemerate qua sopra sì facciamo skypisher magari picco anche un bolt un qualcosa un altro paladino anche basta ok facciamo il tesoro che magari poi ci serve se blinkiamo mettiamo un 4-1 tesco bridge 3 4 5 6 7 perché avevo contato bene 2 3 4 e 1 5 paladino vediamo vediamo che cosa andiamo a girare downbringer non fa nulla inspiring overseer vola però anche palassentine non è così male sai che andiamo a fare palassentine in questo momento se poi facciamo l'andina è 1-2 facciamo journey via al volante almeno per il momento se vai pesco bolt 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 barra e veneret no va bene no 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 lui in realtà in mano c'ha ancora un basilisk un hipgate mi ricordo se ha preso forse mi ha preso il quarto basilisk non mi ricordo se l'ho cancellato o meno vabbè dovrei andare indietro fa nulla fa nulla va bene dovrebbe pompare tutto un pezzo perché se no io posso cian bloccare e va bene ok gli andiamo a togliere almeno un pezzo succederà questa cosa qua e questa cosa qua se vediamo vediamo mi può uccidere il 5-7 e il 4-1 però perde comunque il downbringer che dal mio punto di vista è un'ottima cosa e poi vediamo perché dovessi pescare tipo elementalista robe di questo tipo no non è vero perché c'ha doppia relic in campo quindi devo pescare tutti i wild per ora uno ce l'abbiamo anche doppio wild per non sarebbe male stai facendo così va bene va bene non prendo danni rimango monarca iniziativa cioè mantengo sia la monarchia che l'iniziativa malissimo il secondo downbringer malissimo dovevo fare l'altro dovevo fare l'oversier per giocare safe eh vabbè va bene ripiccare dovrei riuscire a piccare una prismatica barra bolt per togliere questo stappo prendiamo questo e ne abbiamo edycard e vabbè c'è un altro journey va bene cominciamo col fare wild far sopra uno di questi se no poi a un certo punto me lo fa tre volte diventa un problema smescino vabbò è una carta c'è quasi nulla in questo momento andiamo a fare journey su questo se va bene il paladino e poi facciamo l'andina uno due tre quattro e uno cinque paladino sono quasi tentato di andare verso porge e facciamo due pezzi più grossi questo mi diventerebbe un cinque otto va bene e vorrei meno se ok e pesco bolt bene anche se non possiamo tirarlo sì lui comunque a 10 rischia il prossimo turno il fattore che io possa stappare sparargli va bene se in realtà se non erro lo sapevamo poi lui ha tre sei sette otto mano e rischia appunto il andare a cinque e poi dovre per forza bloccare quindi se pompa tutto mi deve anche appoggiare un pezzo e tra l'altro io volendo posso fare anche passare almeno una creatura e poi in realtà abbiamo anche un bolt che non è male siccome questa partita non siamo messi male non siamo messi male magari ci sorprende con qualcosa però avere tutti i pezzi più grossi avere tutti i pezzi di questo tipo non è male va bene gli rimangono cinque mana anche se mi facesse pompo e ti tiro journey io posso far passare cioè posso ne blocco uno non mi cambia lui deve pompare tutto quanto su traben esatto ok porto questo paladino se blocchiamo così va bene e attualmente così sei morto non volevo dirtelo dovrebbe appoggiare almeno un altro pezzo downbringer downbringer lo fa sopravvivere in realtà mi spacca journey lo fa sopravvivere molto va bene journey è proprio brutta in un matcha come questo sì io devo fare blocco blocco per forza di closa in realtà anche almeno un pezzo lo deve bloccare e posso attaccare io però poi dopo posso bloccare quindi vediamo che succede noi rischiamo un altro bolt prismatic strand non ce ne frega veramente nulla attacchiamo con tutto ma proprio niente ci interessa siamo belli lì tranquilli ok morti due pezzi se se ok va bene facciamo ancora un destroy target artifact così non può pescare troppissima roba me ne esiglia soltanto una pesco spirited companion ok 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 ci abbiamo due pezzi giganteschi in realtà abbiamo giocata bene al posto di fare l'overseer appoggiare la pala a sentinel in quello spot in realtà abbiamo giocata molto bene 5 8 e 5 7 e quando c'è due pezzi veramente veramente grossi che merano tutti i turni è sempre contento ehi downbringer mi ha già giocato i tre quindi tutto sommato noi stiamo anche recuperando lo svantaggio vantaggio carte è un'ottima cosa lui sostanzialmente quando avete a fare almeno 6 mana per poter pensare di chiudere ok va bene va bene questo è un altro bloccante manor gate si 1 2 e 3 va bene così non mi uccidi no mi uccidi neanche per sbaglio io al prossimo turno vorrei pescare ancora una carta aggiuntiva no questa è un pochettino l'idea attacchi così non so neanche se fare prismilla però poi mi uccide di bolt prisma matica su bianco va bene tutto questo perché nel caso bolt possiamo tirare su uno di questi pezzi e provare a vincere dipende che cosa decide di giocare esili tutto esili tutto esili tutto qua se volessi provare a fare così no 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 va bene no perché se poi gioca altre bestie diventa diventa un problema diventa un problema gigantesco perché poi non ho modo di sopravvivere mentre così almeno un modo di sopravvivere ce l'ho la seconda prismatica è andata in realtà ne abbiamo ancora due nel mazzo e peschiamo almeno una carta in più e abbiamo anche il companion da ciclare quindi un po' di cose possono succedere tranquillamente ok 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 vediamo se ci fa la terza traben speriamo di no così chiudiamo subito se passa così tiriamo bolt su traben perché deve inventarsi qualcosa per per provare a vincere cioè per sopravvivere l'unica in questo spot in realtà è efemery ok cosa dicevi va bene allora breath weapon da un bringer in realtà non ci serve i giorni non li gioca io questi qua non li voglio neanche per sbaglio non so se giochi prismatica anche lui barra roba che riprende dal cimitero possiamo mettere una reliquia tanto queste cose non servono a nulla e poi e poi in realtà non ci serve veramente nient'altro veramente nient'altro va bene va bene di base dovremmo starci già abbastanza sopra cioè noi praticamente abbiamo giocato un G1 con lui virtualmente già sideato e abbiamo vinto quindi tra l'altro lui già 11 minuti e 40 secondi e ha giocato G1 noi abbiamo 17 minuti e qualcosa va bene va bene va bene questo cagnetto mi ha cambiato la visione di questa mano c'è fai firmato rosso-verde open the gates ok che si prenderà questo a me non piace proprio questa carta mi pare brutta però sì l'andina e 1 e 2 facciamo cagnetto vai quanto c'ho bello i sti cagnetti quanto sono morti i sti cagnetti va bene e passa wow wow e noi in realtà facciamo questo lo togliamo due tanto gli esiliari di questo cimitero direi che è un po' una cagata vai vabbò vabbò successo inspiring overseer l'anda facciamo inspiring overseer e va e direi che puoi andare in realtà questi botti me li vorrei tenere per delle eventuali skyfish perché quelle potrebbero rompere un po' di più le palle prendo due se vabbò onesto 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 e studiato onesto e studiato che te devo dire vai vai non possiamo bloccare questo tirare i propri weapon uccidergli tutto quanto in hand stappare e fare golaia paladin che sarebbe già un'ottima cosa vai coperto poi da un'eventuale prismatica che è vero mi farà guadagnare soltanto un turno ma chi se ne frega si blocco va bene ah lipgate due e uno tre boet weapon va bene stop cagnetto due tre quattro cinque intanto in realtà non ce l'abbiamo quella spell da fare quindi facciamo paladino lui roba instant non dovrebbe averne via questo si va bene entra questo ci andiamo a tutorare un bianco se bianco facciamo rosso vai tutto questo perché un po' di appoggiare questo è meno rilevante non è che mi cambi particolarmente e se mi dovessi tirare un dust dust alla peggio comunque qualcosa cioè riesco a fare un'altra terra bianco rossa che è meglio del bridge col blu guardia va bene possiamo ancora sopravvivere un pochettino ma facciamo forge andiamo a spingere si paladino andiamo pure trap due tre quattro e uno cinque paladino così sai che nel caso rischi di prendere una frangata di schiaffi che te la ricordi per un po' di tempo e poi lo facciamo questo sai che in realtà non ci sta male facciamo companion guardi attaccare non ha senso però qua è almeno un pezzo in più che mi ha visto almeno una carta va bene o hai prismatica o hai prismatica ok va bene hai tutto orato il verde non hai prismatica a me questo non mi frega nulla zero totali ok pesco altra prismatica temeno così sì mi puoi uccidere qualcosì mi puoi uccidere questo ok ok ma così va benissimo ok pescherò una carta in più va bene cleansing wildfire wildfire che ci teniamo in mano guarda facciamo moros garrison ci andiamo a riprendere ancora questo tanto qua possiamo fare un po' tutto vai e il prossimo torno facciamo la ultimate sì che lui mi puoi esiliare questi ma uccidere questo qua ha veramente poco senso veramente poco senso tanto entrerebbe il token succederebbero cose spiacevoli quindi va bene così certo lui tappa una frangata di mana e noi poi rispondiamo subito con cleansing wildfire per toglierglielo lui effettivamente sta scendendo un sacco di tempo e ha 8 minuti e 45 nel caso metti che dovesse vincere questa partita e vi assicuro che ci metterà ancora un sacco di tempo che è schifo va bene questa partita si protrarrà tantissimo ma direi che non è assolutamente un problema 2 1 3 facciamo prismilla da bianco da bianco da bianco se ok stappo e pesco orteas cioè pesco faccio undercity allora questa qua non serve a niente paladino che è un altro pezzo gigantesco può servire ma in realtà faccio dignitario mi guadagno almeno un turno c'è un altro abitante sul campo wildfire qua sopra ok va bene non mi interessa facciamo un turno per far cose downbringer cleric che non fa nulla bene poggiamo questo te meno con i due paladini vai almeno qualcosa succederà se e penso che vada a parare col gatekeeper se no si becca 5 oggettivamente se li può prendere senza eccessivi problemi ok vai va bene nel prossimo turno mettiamo due segnalini di nuovo sul secondo paladino così abbiamo tre abitanti grossi che perlomeno fanno cose questo va bene in questo turno non può fare nulla stappo va bene cioè va bene succedono cose eh già è vero che diciamo abbiamo prima questo perché non abbiamo fatto il paladino quindi non mettiamo ancora i segnalini vabbè fa nulla companion qui c'è una carta in mano comunque volendo posso togliergli proprio il gattino che non è male togliergli completamente il gattino ok pesgro in altra terra facciamo che gli leviamo il gattino facciamo dambringer se exile target sacred cat from grey lord facciamo l'andina e ti veniamo a menare con tutti questi robi qua mi può uccidere questo però saranno con 2 4 6 io non gli ucciderei nulla attacchiamo solo con questi per il momento se va bene va bene via questo ok perlomeno un pezzo ce lo siamo levati vai va bene va bene va bene se lui in tutto questo gli rimangono 7 minuti perché il g2 lo sta giocando molto più velocemente tant'è che ha utilizzato soltanto 4 minuti del suo tempo vuol dire che g1 pensava di vincerla in qualche modo non so in che modo io in realtà qua sono tentato di di prenderli questi danni lui metterà due segnalini sopra un qualcosa se no io li metto là va bene va bene va bene va bene va bene metti due segnalini sul su questo va bene tanto questi tre non me li accoppi quindi non mi cambia li avrei messi qua sopra ammetto che li avrei messi lì sopra su tutta la vita su tutta la vita vamo stappiamo questo qua uccide un pezzo con difensore volendo possiamo uccidere questo andare più agili destroy target creature con defender defender no che defender facciamo questo e vorrei menare con tutta questa roba qua tutto tutto si mi può uccidere il paladino 36 però prende una frangata di schiaffi 9 10 prenderebbe 11 danni a me va bene ok si prendi tutto il resto e decidiamo dove andare a mettere segnalini se vogliamo passare da qui si vogliamo passare da qui qua sopra se vai ok va bene e tu sei a 11 e a questo in realtà vai praticamente a 6 il prossimo se utilizziamo prismilla se vogliamo utilizzare la prismilla se attacchi mi spareresti 5 2 4 5 7 ma senti facciamo prismatica va da bianco va bene 5 minuti e 49 skype skype va bene si riprenderà questo lo rigioca guadagna 7 va a 18 meno 5 va a 13 andiamo avanti così no ha ripreso guardiano è stata interessante è stata interessante ti sparo un po' di danni reliquia che comunque questo punto me la tiro su di me mi levo un'altra terra se questa mamma mia mamma mia esiliamo tutto pesco male 4 5 6 7 8 8 comunque se io meno con tutto è vero che lui può uccidere quello però se mi uccide quello prende more cioè non more ma quasi perché deve bloccarlo con questo questo comunque sia con tre pezzi questo di sicuro più altri tre pezzi c'è due pezzi e poi con questo gli può bloccare questo e andare a due gli morirebbe comunque almeno un pezzo almeno un pezzo e ho pescato veramente nulla io tanto ho tutto il tempo del mondo in questa partita veramente tutto il tempo del mondo però se non attacco come ci mettiamo in una posizione brutta quindi partiamo con tutto e che qua ho ciclato il più possibile ho pescato poi solo land non è bellissimo questo ok 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 vabbè niente preferisce andare per il piano stalliamo tutto vai non aspettavo ho paura di un qualcosa invece non ho avuto paura di nulla non ho avuto paura di nulla basilisk gate e noi abbiamo provato a ciclare tanto lo stavano lui non stavo facendo nulla io non stavo facendo nulla dico ci proviamo va bene questa la può vincere che ho visto le mie pescate è bella che giochiamo solo 20 land e l'ha vinta perché questi sono 10 più 5 di trap e vince vale va bene va bene va bene ok c'hai 4 minuti e 30 per vincere il g3 in un match up in cui tecnicamente stai sottile non potremmo pescare una carta come quella vannaggia la miseria va bene va bene va bene sub mettiamo io anche se gioca con gli affari non mi sento di giocare i journey perché diventano proprio brutti 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 non me pasa non me pasa non me pasa va bene partiamo noi ok va bene keep va bene keep landina looting se mi parte già con le robe bravo lui ma sai che tiriamo via questi due vai poi può anche non partire sempre con con la reliquia si stappo overseer bianco e verde ha poco senso vai adesso reliquia subito guardalo no downbringer va bene si spera su prismatica cioè in questo momento spera su prismatica va bene landina 1 2 e 1 3 overseer se vai è bello che lui ha anche saltato infiniti l'endrotto ha vinto quella partita e noi non abbiamo pescato nulla si va bene zio pera zio pera via questa se e femerate che è una carta che farei dei danni lo faccio adesso perché voglio andare a cercare l'anda esco l'anda bravo mazzo si vai tra l'altro una delle migliori che mi permette di andare anche il prossimo turno e siamo a 21 va bene va bene va bene io adesso posso rianimare il paladino forte della prismatica al cimitero pesco una carta in più mi riguadagno almeno una vita torniamo a 18 è un gioco tagliato tre lite con sta roba si 2 3 e 1 4 late to din rianimiamo paladino spingiamo il più possibile non devo neanche fare wildfire in questo momento così diamo valore a questa prismatica si prendiamo rosso facciamo rosso vai vai siamo messi molto 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 bene molto bene mi dica perché lui in questo momento non può passare terzo basilisk top decato ragazzone va bene va bene e posso bloccare ti guadagni 5 vite indubbiamente però a me non cambia e fin quando non vedo una reliquia quella prismatica sta lì va bene guarda come scoppiano poi i suoi pezzi va bene e a questo punto facciamo forge forge su questo ok facciamo wildfire qua sopra se facciamo smescino che uccide i due gattini facciamo la ma io in realtà farei questa per non andare sotto da studarsi inutilmente e poi ti meno con questi due se e vai a 20 cioè vai a 16 e li a 23 diretti 3 gattino va bene skyfish e rona va bene oddio va bene più o meno chi si è ripreso i vasi ok per poter fare un tesoro credo mi sarei ripreso questo solo che dovevi farlo e se non facci di gatto potevi esiliarmi la prismatica facciamo trap su di te che mi vai che mi vai a 11 ok 2 3 4 8 di volanti ce ne so pochi in realtà posso spaccare pure questo ma se spaccassimo quello adesso che non c'è roba al cimitero io posso riprendere pure efemerit andiamo efemerit se qua sopra prendiamo wafer landina ti menerei un pulitissimo 3 6 teniamo il resto indietro va bene va bene va bene va bene vai tu sei a 8 che comunque prossimo turno io ci pesco anche una carta in più ad un certo punto tu tra l'altro finirai le basiche cioè questa è una di quelle partite nel quale puoi addirittura arrivare a grindargli le terre andando ad avere dei single che si ciclano costo 1 rosso va bene va bene non cambia tipo nulla ma veramente 0 cambia questa cosa si va bene così continuiamo a mantenerci l'altro pippolino piumse dovevi farlo dopo dovevi farlo dopo e noi facciamo cos'è preveniamo dal bianco perché così non me lo uccidi il pezzo uccidi ardente elementalist indubbiamente però va bene e tu tra l'altro non hai neanche guadagnato vite pesco bolt oh no 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 questo va qua sopra facciamo la ultimate ora rigiriamo un altro ardente elementalist che mi piglia che mi piglia efemerate ole e qui va bene eravamo messi non bene di più c'è g2 l'abbiamo persa solo perché a un certo punto siamo veramente esplosi un pochettino a caso detto questo matchup è stra favorevole va bene siamo 3-2 ultimo match di questa challenge vediamo un po' contro che cosa siamo andati a finire allora lui parte a 7 e questa è una mano che un dietro non mi dispiace troppissimo tenere ma ci sono dei mazzi che ti uccino ti prego un altro ponza no ti prego un altro ponza no beh che g1 se fosse ponza con triplo di questo aiuterebbe non poco però è un rampino che posso spaccarti bravo fermati la miseria porca miseria 1 e 2 facciamo questo destroy target enchantment lui comunque 4 terre ce le ha non è che non ce le ha però vai sì conoscendoli mi appoggia moon drifter 3 4 va bene ma è rampa ma per lo meno non mi spacca nulla però il prossimo turno mi può fare robe se non io uccido quella quindi looting si opera 1 e 2 e 1 2 e 1 2 1 e 2 facciamo companion se siaga e c'è 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 che c'è c'è l'occa è Se, land, vai, quello può bloccare 85.000 creature, mi devo riuscire a fare, va bene, va bene, siamo ancora a 21, e in realtà per essere ponza di nuovo siamo messi in meno o peggio di quello che possa sembrare, ti prego, un altro altissimo. Va bene, va bene, va bene, sì, 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 eh, presi, presissimi, presissimi, sì, va bene. Ok, stappiamo, peschiamo forte. Attenzione però, perché noi possiamo fare una cosa divertente. Journey su questo, sì, e vorrei attaccare con questo. Che vola. Vorrei prendere monarca. Riprendere monarca, visto che non l'abbiamo ancora fatto oggi, è una cosa bruttissima. Mettiamoci la groncina in testa, facciamo terrino. 1, 2, 3 e 1, 4. Stonehorn, Dini, Dori. Vai. Ok. Siamo monarchi, tu c'hai tre carte in mano. Pesciotto, va bene. Pesciotto lo possiamo bloccare. Cioè, va bene, anche qua, molto relativo questo va bene. Sì. Va bene. E queste terre indistruttibili, quanto hanno cambiato? Va bene. Non è un problema. Se. Stacco. Landa. 1, 2, 3, 4, 5. Paladino. Prendiamo anche iniziativa. Sì. Sì. Bianco. Vai. Non facciamo nulla e possiamo proteggere tutto. E si attacca e gli facciamo un macello. C'hai quattro carte in mano? Io ne ho 5. 5. Terzo altisauro. Eh, va bene. Giusto. E Sidmos. Va bene. Va bene. Fin quando riesco a mantenere queste cinque terre indistruttibili sul campo, io vi assicuro che G1, bene o male, lo dovrei riuscire a vincere. E finché posso anche quell'Ephemerate sta un attimino lì, perché quella prismatica fa un macello a lui. Ok? Però lui deve forzarmi comunque la prismatica. Mi ne ci sta. Ok. C'hai paura. Bene. Bene. Giusto che tu abbia paura. Tu devi aver paura. Devi farlo. Mela con tutto. E se no non mi obblighi neanche a fare. Non mi obblighi neanche. Va bene. Questo, questo qua. E ci dobbiamo aggiungere due di forza. Questo e questo. 3, 4, 5 e 2. Va bene. Non devo neanche utilizzarla da prismatica. Quindi a me tutto sommato. Sai che non va così male. E siamo ancora. Monarchi e con l'iniziativa. E invece no. E' un altro sparring over seer. Anche noi. Ed è il fordore. Va bene. Sì. Stappo. Ok. Andiamo di porge. Perché mi servono segnalini sui miei pezzi. Bello. 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 Bellissimo. Facciamo l'anda. 1, 2 e 3. Facciamo inspiring over seer. Che pesca un moltino. Che bello. Facciamo questo. Vai. Peschiamo ancora una carta. Io penso che tu a un certo punto vada nella direzione del finisco le risorse. Per. 3 carte in mano. Diciamo che ogni landa che ho fatto in qualche modo me l'ha spaccata. Ma questo è un altro discorso. Va bene. Nei sono ancora 16. Prendi la tua isoletta. E fino qua. Questo va bene. Non le sta finendo le risorse. Non le sta finendo. Però. Noi abbiamo doppio ephemerit. Stai attaccando. Non stai attaccando. Dimmi tu. Attacchi. 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 Ecco. Poi più tempo ci mette. Noi siamo contenti. Lui sa che se attacca in qualche modo. Se vuole riprendersi il monarca. Quella prismatica. Gli farà un macello. Che se lo ricorda per un bel po'. E io qua che devo fare. Blocco questo. Blocco questo. Blocco questo. E sto di sicuro. Non so se proteggere dal blu. Però direi di no. Tanto in realtà l'iniziativa la possiamo prendere così. Va bene. Va bene. Va bene. E va bene. Questo lo sapeva. Sì. Ok. Vogliamo uccidergli un pezzo. Cioè che non è. Bello. Ma non è neanche brutto. No. Magari mi fa altri. Va bene così. Stappiamo. Pesco. Altri giorni. Attenzione. Attenzione. Allora. Allora. Ragioniamo. Perché noi possiamo fare paladino. Ma in realtà c'è un paladino. Che ci frega. Che ci frega. Ma niente c'è in porta. Tanto c'è abbiamo prismatica. Stiamo giocando tutta in funzione di quello. Cinque pignette. È vero che potevo rimuovergli un pezzo. Però non so quanto sia troppissimo rilevante. Come abbassargli la vita e poi a un certo punto poter spingere all'infinito. Questo wifi è una carta. Questo è il porboreo. Potrebbe voler dire che hai finito il gas. Avrebbe un'attima cosa. Sì. E qua con anche questo qua in campo facciamo macelli se attacchi. Quello è l'unico pezzo con trample. Non è vero. Non è vero. Non c'è anche l'engine hunter. Dimenticavo di questo leggiatore aspetto. Devi attaccare un sacco di cose se vuoi riprendere l'iniziativo. Perlomeno forzarmi la prismatica. Comunque in tutto questo noi la stiamo ancora vedendo. La prismilla. E allora che te dobbiamo dire? Facciamo così. Facciamo così. Sì. E poi facciamo prismatica. Così abbiamo tirato via due pezzi. Sì. No. Forse. Facciamo prismatica. Preveniamo dal verde. Così non prendi iniziativa. Perdi due pezzi. Grossi tra l'altro. Ok. Stappiamo. Peschiamo una carta in più. Volendo possiamo anche fare la ultimate. Ma wow. Facciamo la ultimate. 1, 2, 3 e 1, 4. Late to dinner su paladino. Che mi risolve la ultimate. Che mi mette un elementalista. Che mi prende late to dinner. Che concede la partita. Va bene. Allora. E che dobbiamo fare? Questi. Questi. Le pyroblast. Capiamo se metterle tutte. Ma probabilmente sì. I giorni. In questo matchup invece mi diventano forti. In realtà devo un attimino capire perché. 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 In realtà è tutto forte qua. Cioè non so se voglio anche questi. Però in realtà lo rallentano. Che patela. Che patela. Che patela. Leviamo questi solo perché non levano anche gli altri elfetti. Mentre. Brett Weapon toglie tutto. Vero che se parte con l'elfetto. Però. Ce ne faremo una ragione. Questi sono purtroppo forti. Questi sono forti. Questi sono fortissimi. Prismatiche sono fortissime. Però qualcosa dobbiamo togliere. O non mettiamo. Ci accogliamo il non mettere questi. Perché poi dopo lui gioca anche i peschini. Ma non gioca i pezzi rossi. Quindi c'ha meno cascanti. Quindi leviamo questi. Leviamo questi. Almeno ci proviamo. Ci stiamo cercando di capire qualcosa di un matchup. Che è bruttissimo. Questi qua in realtà sono fortissimi. Ma più avanti. Quindi almeno uno lo dobbiamo togliere. E poi. Lui dovrebbe giocare in totale 8 carte blu. Più volendo potrebbe mettere anche le Hydro. Quindi. A me questi non dispiacciono. Tecnicamente. Dovremmo limare anche i Bolt. È assurda. Paradossale. Questa cosa. Però limare anche un Bolt. Potrebbe non essere una cosa sbagliata. Perché. Noi non gioca i 6-3 rapidi. Toglierci il monarchino. Noi non gioca i 6-3 rapidi. E questa mano. Questa mano. Non è brutta. Però. Va bene. Ci proviamo. C'è una mano che mediamente terrei. Però ovviamente su alcune sue partenze questa è una mano che muore a caso. Lo vediamo. Vai. Se. The Glamer. No. No. Niente. The Glamer. Vai. Che male che mi ha fatto questa cosa. Che male che mi ha fatto questa cosa. Into Termocast. Vai. Questa intanto buonissima. Buonissima. E Glamer. Vai. Ma che cavolo di mano attenuto a 7 doppio declamer più cose. E poi. Via la prismatica. Stai. Lui si stappa ai pezzi a 4. Io non pesco lande. E muoio. Termocast. 4 slandi. Sono proprio tanti. Se. Via questo. Vai. 4 slandi. Sono proprio tanti. E Avenging Hunter. Slanda 2. Slanda 3. Slanda 2. Slanda 3. Ci vediamo fra 8 anni. Se. Non sono riuscito a giocare una singola spend. Cosa interessante. Io capisco che sai di declamer. Però vederne subito due così. E' un attimino. Brutto. Molto. Molto brutto. Molto. Molto brutto. Già aver vinto quel G1. Tanta roba. Però adesso partiamo noi. Voglio partire. Sì. Dai. Mazzo. Valligo. Non posso di rischiare di tenere quella mano. Ma neanche questa. Neanche questa posso tenere. E' un macello questa mano. E' un macello. Non si può fare. Che poi mi bastano le terre. Mi bastano le terre. Tra quelle volte in cui dici. Vabbè. Se tengo una mano a 5. 6 terre. Sono pure contento. Ma qua. Non ce la facciamo. Lui tiene a 7. Di nuovo. Maldigo. Eh vabbò. Via ephemerate. Via ephemerate. Va bene. E va vai. Vai. Di primo. Non mi può. Questo. Questo è male. Bolt. Va bene. Sì. Rosso. Vai. Vai Roblast. Sarà una carta. Sì. Sarà una carta. Slando. No. Attenzione. Cannonata. L'abbiamo messa. La cannonata. L'abbiamo messa. Poi. Eh. Cannonata. Quanto sarebbe stata forte lì. Quanto sarebbe stata forte. Trevi. C'ha già 5 mana. Dantissimi. Sì. Cannonata qua la mandava sulla luna. Sulla luna la mandava. Sulla luna. C'è cannonata. Eh. Brett Weeple. Mi avete capito. Però siamo talmente indietro. Abbiamo pescato doppio troppo a 5. Doppio troppo a 5. Dopo un valligan così. C'è poi sarebbe incredibile. Sì. E' the Glamer. Ah no. Ok. Vai. Un po' meglio. Vai. Sì. Quattro. Fammi un pesciotto. Sì. Sì. Non smetterò più di urlare questo. Sì. Fantastico. Fantastico. Va bene. Tacca. 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 Stappo pesco terra stappata monarca. Quanto è stata forte questa cosa. Quanto è stata forte. Sì. Va bene. E facciamo companion. Landa. Va bene. Vai. Vai. Va bene. Fai tre carte in mano. Peraltro moll drifter. Ti prego. Vai moll drifter. Ti prego. No. Iniziativa è il male. Va bene. Cioè dovrei farla anch'io. Se riesco a pescare. Se riuscissi a pescare una landa stappata. Per poterlo fare. Attenzione. Attenzione. Sì. 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 E che prendiamo? Rosso ne abbiamo tre. Quello. Però prendiamo rosso. Vai. Cioè. È incredibile quello che sta succedendo. Ma. Dipende che cosa c'ha in mano. Qua mi può fare dinosauro. Purtroppo mi può fare dinosauro. Va bene. Ok. E i claim. Però va relativamente bene. Perché io mantengo l'iniziativa. Ok. Non una landa. Non la landa. Qua io posso bloccare. Questa cosa in realtà è molto croccante. L'hai sempre fatto sulla landa. Perché posso fare forge qua sopra. Sì. Fare l'anno. E poi dirti. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Paladino. Questo. Su. Dite. Attacchiamo. Deve bloccare con tutte e due. No. Vai. Vediamo. Perché se manteniamo l'iniziativa al prossimo turno peschiamo anche una carta in più. Questo va bene. Qualunque cosa blu dovesse fare. Pile o blast. Ma proprio direttissima. Noi poi comunque nel caso possiamo ancora fare palasentinelle. Cioè attualmente siamo installati con lui che se vuole prendere iniziativa può farlo. Ma deve menare con tutte e tre pezzi. Perdere probabilmente questi due. Non è vero. Non è vero. Perdere. Scusate. Questo. E. L'elfo arboreo. Sì che può mettere poi due segnalini qua sopra. Ma tanto poi dopo siamo installati. Lui perde il suo pezzo più grosso. Io appoggio palasentinelle. Mi riprendo back iniziativa. Menando con entrambi i pezzi. Che tra l'altro poi possono bloccare. Questa cosa è gigantesca. Ok. Ok. Stappo e pesco due. Looting. Va bene. Via. 1 e 2. 1 e 2. 1, 2, 3 e 1, 4. Facciamo palasentinelle. Sì. Siamo arrivati a scartare delle terre contro Ponza. E questa cosa dovrebbe essere un ottimo segnale. Vai. E ci siamo pescati un po' di palta. Ma va bene. Secondo altisauro potrebbe essere un problema. Termocast. Va bene. Va bene. Noi siamo stessa situazione di prima. Ma tu c'hai un antisauro in più. Ma io risolvo la ultimate. E sono monarca. Non mi sono messo il cappellino da monarca. E... Anche Elementalista è una carta. Anche Elementalista. Paladino gigantesco. Inspiring Overse. In realtà Paladino gigantesco in questo momento. Perché l'Overseer poi mi diventa solo un 5. Mentre questo è un 6-9. Che è ancora più grosso. Prendo questa. Mi riporta ancora più avanti. Facciamo Companion. Sì. Landa. 1, 2 e 1, 3. Overseer. Sì. Vai. Pesco di iniziativa. C'è di monarca. Sto dicendo tutte. Nel prossimo turno possiamo mettere anche dei segnalini sopra un qualcosa. Potrebbe essere questo. Per far diventare. Per avere il terzo pezzo che uccide i suoi altisauri. Avenging Hunter e così via. E a breve cominciamo a menare come dei disperati. Lala andava bene. Declaimer. Sul comprare. Ma che male t'hanno fatto sti Companion? Non lo so. Zero carte in mano. E quel counter su Moldrifter è stato risolutivo. Segnalini qua sopra. Ok. Landa. Journey. Pia questo. Ma anche così. Journey. Via questo. E che te devo dire? Ti meno. Con questo, questo, questo e questo. Vai. Mamma mia che roba che stiamo facendo. Che roba che stiamo facendo. È incredibile. Incredibile. Sì. Prendi 12. Vai a 3. Ce lo accogliamo di cercarci il Bolt? Non è arrivato. Va bene. Scartiamo questi due? Sto scartando Lande. Vai. Ma almeno abbiamo aumentato le probabilità di provare a vincere a caso. Che pescato? Avenging Gunter. Metti dei segnalini. Il problema è che io meno come un Fabbro. In realtà tanto metti dei segnalini e muori perché due pezzi passano e sono almeno 4 danni. E abbiamo battuto un altro polvo. Molto bene. 4-2 in questa challenge. Che poteva andare un pelo meglio. Ma considerando i matchup che abbiamo beccato. Io me l'accollo. Vuol dire che il mazzo è abbastanza resiliente. Abbastanza forte. Anche nei matchup sono bellissimi. Sicuramente Gessky non è stato buonissimo da beccare. Sicuramente ci si può lavorare su quel matchup. Anche se secondo me rimane un pelo sopra nel matchup ma non nel meta. E questo cambia molto perché puoi accettare di beccare un mazzo che comunque non è giocato tantissimo. Ma che tendenzialmente sta un pelino peggio del meta rispetto a questo. Sicuramente quello dove si sta peggio con Gessky rimane essere... Magari togliamo la panuncina. Anche se con quello che abbiamo fatto va benissimo. Sicuramente Monored è un matchup incredibilmente brutto. E rallenti anche contro altri mazzi secondo me. Già solo il fatto di spingere meno. Sicuramente ti mette un pelo peggio contro Affinity. Per poi sicuramente, ho detto sicuramente tantissime volte. Ma si migliora poi post side. Anche Gessky per un altro ottimo mazzo. Cioè sta riprendendo tanto piede in questo meta. Che non è per nulla male. Quindi, che dire. Grazie di essere stati con me in questa challenge. Vi ricordo che il Geddon si sta avvicinando tantissimo. Ci sono un sacco di cose belle. Mi ricordo di iscrivervi al Geddon. Se non l'avete ancora fatto qua sotto trovate il link. Per poterlo fare organizzatevi. Perché ci sono un sacco di cose belle. E nel caso passate lo stesso. A giocare in draft. Sealed della nuova espansione. Ci saranno pre-release. Ci saranno draft. Side event. Venite anche soltanto a fare un side event. A salutare. A farvi firmare le carte da Vilsam. E noi ci vediamo al prossimo video.